Jin! Jin! Sono esausto, Jin! Abbiamo perlustrato l'aria per un'ora, ma non c'è nessun mostro e mi fanno male i piedi, le ginocchia e pure il naso! Guarda qui. Stai leggendo gli omicidi che sono accaduti oggi? No. Gli sconti alla pasticceria! Ah, Jin! Tu pensa alle torte! La mia bocca ha smesso di fare il suo lavoro come il resto dei muscoli del mio corpo! Morirò qui! Quanto sei fastidioso! È il nostro lavoro! Sono cosa? L'avevi detto tu, no? Volevi diventare una guardia per essere rispettato. Hai dimenticato? Pensandoci bene ho detto una vera cazzata... Ma vedi, non è quello lo scopo da raggiungere. Devi diventare una guardia per difendere gli altri, non per farti rispettare. Le guardie che salvano le vite degli altri mettono se stessi al secondo posto. Ti piace così tanto combattere i sindromati, Jin? Quel che mi piace fare è far vedere nel migliore dei modi le mie qualità. Non importa chi ho davanti. Ehi, Jin... In una situazione particolare, un momento dove sei costretto a scegliere tra me... ...e un cittadino, chi salveresti? Perché l'hai detto poco fa, no? Noi veniamo dopo i cittadini, quindi salveresti quella... Non sceglierei nessuno. Andrei semplicemente a spaccare quella schifosa bestia che vi ha messo in pericolo. Chi è? Come dice mio zio, se non trovi il mostro, il mostro trova te. Non preoccuparti, Fred. Ti proteggerò.